Buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta siamo su CannoTV per parlare di cinema. Oggi ci immergiamo tra le pieghe del cinema di genere italiano, torniamo indietro nel tempo fino al 1973 perché ho da presentarvi un film secondo me veramente molto bello che vi consiglio assolutamente. Trattasi della ragazza fuoristrada, risalente al 1973 per l'appunto, diretto da Luigi Scattini che diresse quello stesso anno anche La ragazza dalla pelle di luna, entrambi interpretati dalla bellissima attrice eritrea Zeudi Araia che all'inizio degli anni 70 si impose come una delle principali icone dell'erotismo nostrano. Quell'erotismo di stampo un po' esotico perché appunto tutte queste pellicole andavano a riguardare delle storie relative a viaggi all'estero in alcuni paesi esotici. Ad esempio posso citare una saga fortunata, secondo me però di fattura decisamente minore rispetto a questo film, Emanuele Nera, la saga con protagonista Laura Jemser, altra attrice appunto che in quegli anni si impose come una delle principali icone di quell'erotismo di stampo esotico. Diretto da Luigi Scattini che fu un vero e proprio mentore per Zeudi Araia, la diresse anche nel corpo oltre che appunto nella ragazza dalla pelle di luna, il film ha un cast molto interessante, Luke Merenda, che era naturalmente protagonista di tanti poliziotteschi come Milano Trema, La Polizia vuole giustizia, ma un cast composto anche da Lucrezia Love, da Martin Brociard che appunto nell'epoca giravano spesso il cinema italiano, una bellissima Caterina Boratto, attrice e simbolo del cinema italiano anni 40-50, di una bellezza sconvolgente, ma il cast include anche Giacomo Rossi-Stewart, padre di Kim Rossi-Stewart, che peraltro compariva anche in La ragazza dalla pelle di luna, che è un po' il film gemello, diciamo, della ragazza fuoristrada, vengono fondamentalmente sempre accoppiati, e nel cast sono presenti anche Tony Kendall, Guido Alberti e Franco Ressel, impegnato nell'ennesimo personaggio sgradevole della sua filmografia. Anche il lato tecnico del film è molto interessante, c'è un'ottima colonna sonora curata da Piero Umigliani, Piero Umigliani era quello, tra i tanti lavori naturalmente, che fece dei soliti ignoti, di quella bellissima colonna sonora dai risvolti jazz che aveva i soliti ignoti. Peraltro la sceneggiatura del film è curata da Gustavo Palazzo e da Leo Chiosso, che era il paroliere, l'autore dei testi, colui che aveva scritto i testi delle canzoni di Fred Buscaglione, di quelle stravaganti canzoni di Fred Buscaglione, da che notte, a che bambola, eccetera, eccetera. Leo Chiosso, peraltro, scrive anche i testi delle canzoni che Zeu Di Araia, la stessa Zeu Di Araia, canta nella colonna sonora di questo film, la canzone che apre il film, su cui scorrono i titoli di testa. A proposito di canzoni che compaiono nel film, cito anche una bellissima versione di Ritornerai, di Bruno Lauzzi, cantata da Ornella Vanoni durante una scena di sesso tra Luke Merenda e Lucrezia Love. Il film, a tal proposito, è vietato ai minori di 18 anni, probabilmente passò già all'epoca come vietato ai minori di 18 anni, ci sono alcune sequenze di nudo, nulla di integrale, c'è qualche seno, c'è qualche tetta, come appunto era di consuetudine all'epoca, forse qualcosa che oggi risulta veramente innocente, magari all'epoca poteva in qualche modo colpire di più. Ma dietro questa superficie di erotismo, di stampo esotico, secondo me il film racconta qualcosa di più profondo. È la storia di un fotoreporter, un pubblicitario, che si chiama Giorgio Martini, interpretato per l'appunto da Luke Merenda, che fa un viaggio in Egitto, dove conosce un insegnante locale, interpretata appunto da Zeu Di Araia, e dopo averla fatta posare per un servizio fotografico che in seguito avrà decisamente fortuna, decide di sposarla. E quindi torna in Italia, torna nella sonnacchiosa provincia ferrarese con lei e si scontra con il razzismo dei suoi conoscenti. E il film è molto cattivo nel descrivere la falsità, l'ipocrisia, la vera e propria cattiveria di queste persone, dei conoscenti appunto di Martini, interpretati ottimamente da Martin Brochard, da Giacomo Rossi-Stewart, da Franco Ressel. Non che il nostro Martini si riveli tanto migliore rispetto a queste persone. La purezza è affidata appunto al personaggio di Zeu Di Araia, che proviene da un mondo meno sviluppato, ma che dentro di sé insomma conserva quegli ideali che mancano ai civilizzati, in questo caso agli italiani. E secondo me non è un caso che il film si ambienti nel nord Italia tutto sommato, appunto nella sonnacchiosa provincia ferrarese. I personaggi sono descritti in maniera secondo me efficacissima dalla sceneggiatura, dalle interpretazioni dei vari attori e il senso di disgusto secondo me alla fine prevale guardando questo film perché davvero si viene a conoscenza di un mare appunto di ipocrisia, di falsità, di cattiveria, un mondo fatto di invidie, di gelosie, di rancori sopiti e il film in tal senso è molto moderno perché affronta un tema purtroppo sentito ancora oggi ovvero quello del razzismo e allora il film si ambienta nell'Italia del 1973 ma l'impressione che si ha guardandolo è che purtroppo oggi non sia cambiato veramente molto. Il film potrebbe ambientarsi tranquillamente nell'Italia del 2022 e conserverebbe ancora intatto appunto il suo fascino, il ritmo appunto che caratterizza questa pellicola. C'è un'ottima fotografia veramente molto interessante curata da Antonio Borghesi e il film tecnicamente è veramente molto curato nonostante comunque appartenesse al filone dei B-movie naturalmente, al cinema di genere, tutto quel cinema interessantissimo che appunto governava diciamo le sale cinematografiche italiane dell'epoca. Veramente un film molto interessante secondo me deve qualcosa a Signore e Signori di Pietro Germi, capolavoro di Pietro Germi. Io credo che Scattini l'abbia in qualche maniera tenuto in considerazione ma è una versione probabilmente meno riuscita dal punto di vista tecnico dal punto di vista registrico perché Pietro Germi era un autore pressoché irraggiungibile ma se vogliamo forse è una versione ancora più cattiva, ancora più estrema del grande capolavoro appunto di Germi con un'ottima Zehudia Raia che viene catturata da questa meravigliosa fotografia, questi occhi meravigliosi appunto della Raia che sovrastano qualsiasi altra interpretazione in questo film. Non solo un filmetto erotico ma secondo me anche qualcosa di più, una pellicola che vale assolutamente lo sguardo ancora oggi, curata, curatissima dal punto di vista tecnico, una bellissima colonna sonora, una bellissima fotografia, bellissime interpretazioni e un messaggio tristemente attuale ancora oggi. Per cui io ve lo consiglio assolutamente la ragazza fuoristrada da dargli assolutamente uno sguardo. Se l'avete già visto, se lo conoscete, fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate, io sono curioso di sapere, di leggere tutto ciò che eventualmente mi lascerete scritto. Grazie a tutti per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video. Ciao!